Non è raro in Calabria trovare le strade trasformate in enormi discariche abusive a causa dell'inciviltà di pochi, che probabilmente per evitare di essere censiti a livello comunale e quindi pagare le tasse, lattare in particolare, preferiscono caricarsi la spazzatura in macchina e gettarla nel primo posto appartato lungo il tragitto che percorrono abitualmente. Come non è raro che alcune attività commerciali smaltiscano i propri rifiuti speciali per non essere costrette a mettere in bilancio la relativa voce, ma per fortuna anche in Calabria si inizia a fare controlli mirati e posizionare videotrappole che immortalano questi incivili in modo da individuarli e sanzionarli come la legge prevede. Una di queste discariche a cielo aperto è stata scoperta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Vibo Valencia, coadiuvati dai militari delle stazioni dei carabinieri forestali di Vibo Valencia e Spilinga lungo la strada in località Castelluccio del comune di Stefanacoli, nelle immediate adiecenze del serbatoio dell'acqua e in stato di abbandono da anni. I carabinieri hanno trovato di tutto, dai pneumatici usati alle batterie per auto esauste, parti meccaniche e di carrozzeria, rinvenute anche numerose maniche filtranti utilizzate da forni industriali per la verniciatore di prodotti metallici, nonché i lastre di Ethernet, questi rifiuti altamente pericolosi. E tanta tantissima spazzatura proveniente ad abitazioni private. Una bomba ecologica quotidianamente alimentata da persone comuni che, proprio grazie alle fototrappole, sono state scoperte e identificate. Come si può vedere da queste immagini, questi incivili giungevano qui a bordo delle proprie auto e dal cofano scaricavano la qualunque cosa, come se fosse normale disfarsi della propria spazzatura di scapito dell'ambiente e di tutta la popolazione che abita nelle vicinanze di quel luogo. Questi soggetti e i titolari di due aziende sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi sul suolo, derivanti dall'esercizio delle rispettive attività commerciali, nonché sono stati anche costestati illeciti amministrativi sanzionati per un importo complessivo di circa 5.000 euro. La strada ora è stata sottoposta a sequestro ed è stata affidata alla custodia della provincia di Vipo Valencia quale ente proprietario, mentre il comune di Stefanaconi e la stessa provincia sono stati invitati, in base alle rispettive competenze, ad effettuare con urgenza le necessarie opere di bonifica del sito.